Ci sono voluti almeno quattro scippi per individuarne l'autore. Tutto è avvenuto a Boiano nel corso di quest'anno, quando alcune donne di età intorno ai 70 anni sono state intercettate in una zona periferica, sicuramente non molto frequentata, e sono state affrontate e rapinate delle borse. In ogni scippo si è avuto un qualche particolare per l'individuazione che i carabinieri della locale compagnia hanno ben sfruttato per portarli alla soluzione del caso. Così, tra indagini e controlli, sono riusciti ad individuare un giovane rispondente per caratteristiche fisiche che potesse essere il rapinatore. È scattata una perquisizione nella residenza del ragazzo, un quindicenne del luogo, dove sono state ritrovate alcune schede di fedeltà di supermercati della zona e una tessera sanitaria di evidente uso da parte delle vittime. Da questi riscontri i carabinieri hanno potuto dunque confermare l'avvenuta soluzione del caso, deferendo il soggetto in stato di libertà all'autorità giudiziaria e riportando una certa serenità nella cittadina, soprattutto nelle persone anziane che si trovano ad attraversare la zona adiacente, il torrente Callora. Intanto gli uomini dell'arma invitano i cittadini a contattare per ogni evinenza il 112, soprattutto in un periodo come quello attuale che registra un aumento preoccupante di furti e rapini.